Io comunque non l'ho mai mangiato. È la prima volta che l'assaggia? Ho fatto una vacanza dove in sardegna e roba... è sarda? È una pasta sarda? Però non ce l'ha fatto sentire, come devo dire. Davvero. Comunque è molto buona. In che senso? Eh, perché è pasta che è consistente. È consistente, sì. È consistente e c'ha... È semola. Sì. Eh, ecco, è pasta di semola, non di farina. No. Pecorino. Si sente il formaggio? Il formaggio pecorino. Quasi come un retrogusto. Alla fine si sente il pecorino. Dice alla fine? Sì. Cosa prevale? Il formaggio. Il formaggio? Eh sì, è strong questo. Questo formaggio l'avete prodotto voi? Maria Angela. Complimenti, signora. Grazie. 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 Grazie.